Il cammino è ancora lungo, è vero, eppure l'entusiasmo che avvolge l'ischia in campo e soprattutto fuori è riuscito a riavvicinare anche persone che da tempo avevano abbandonato la passione per i colori giallo-blu a causa delle note e tristi vicende degli anni scorsi. L'avventura della nuova società, targata a Medmar con il patrone Emanuele D'Abbundo, è iniziata rilevando la squadra che era gestita in prima categoria dai tifosi. Il sogno, più che l'obiettivo, è quello di tornare in Serie C nel giro di dieci anni. Ne sono passati tre di anni e l'ischia già sogna il ritorno in Serie D. Lo stop forzato a causa della prima ondata della pandemia ha portato l'ischia il pianura dalla promozione all'eccellenza e quella sfida che tanto aveva entusiasmato gli appassionati di pallone locale si è riproposta quest'anno nel gironcino B del campionato di eccellenza. Cinque squadre, Ischia, Barano, Real Forio, Pianura e Napoli United a contendersi in gare di andata e ritorno le prime tre posizioni che valgono la qualificazione alla seconda fase. Ottavi di finale, quarti, semifinali e finale, una sorta di Champions League del calcio dilettantistico. Due le squadre in tutta la campagna che alla fine potranno conquistare sul campo la promozione in quarta serie. Al Mazzella si è giocata la gara di ritorno tra Ischia e Pianura. All'andata, giocata allo stadio Simpatia di Pianura, una brutta Ischia aveva incassato il 3-1 che aveva preoccupato non poco la piazza. Invece quella, al momento, è stata l'unica sconfitta. Poi sei vittorie su sette partite giocate, in attesa dell'ultima giornata in influente contro il Napoli United. In influente perché l'Ischia domenica ha vendicato la sconfitta dell'andata contro il Pianura vincendo al Mazzella 2-1 al termine di una partita non spettacolare ma molto sentita. Prima il gol del vantaggio del bomber Gianluca Saurino, poi la risposta del Pianura tre minuti dopo con un altro bomber, Orazio Grezio. All'intervallo è 1-1. Come nel primo tempo, anche nel secondo le occasioni sono poche, le emozioni pure. La sensazione è che solo un episodio possa sbloccarla. Ed infatti entra il solito Gigio Trani dalla panchina e cambia il match. Su una palla che sembrava innocua pasticciano il difensore del Pianura e il portiere. Gigio si inserisce e all'estremo difensore non resta che mettere giù il piccolo folletto ischitano per impedirgli di segnare. Calcio di rigore, gol dal dischetto firmato da Mario Sogliuzzo. L'Ischia vince 2-1 e Almazzella esplode la festa per la matematica certezza del primo posto nel girone. I giocatori festeggiano ma lo stadio è vuoto a causa delle restrizioni. Eppure il tifo ischitano si sente e come. È lì, a pochi metri dall'impianto sportivo. Da un terreno limitrofo denominato Curva Agricola, in 150 guardano la partita, cantano e incitano. Al termine del match, i giocatori hanno lasciato lo stadio per andare a festeggiare con i loro tifosi il primo posto nel girone. Delle immagini emozionanti che solo chi vive queste passioni può comprendere. La troppa foga porta a lasciare sul posto qualche fumogeno non ancora del tutto spento e così si è nascato un incendio che ha costretto i vigili del fuoco ad intervenire. Ma la gioia era troppo grande per fermare la festa e così mentre si festeggiava in campo e fuori a far da scena i festeggiamenti c'erano le fiamme della serie Un Clima Infuocato. La festa ovviamente è per il primo posto nel girone che tra l'altro permetterà agli isolani di giocare tutte o quasi le gare della seconda fase in casa al Mazzella in gara secca avendo a disposizione due risultati su tre. Dunque non è stato fatto ancora nulla ma vedere l'ischia protagonista nel massimo campionato regionale con tutti i giocatori ischitani, con una società tutta ischitana grazie al presidente Dabun e al direttore generale Pino Taglialatela ha riacceso il fuoco della passione in tanti tifosi che pian piano stanno ritornando a sostenere la squadra. Dal primo giugno sarà possibile fare entrare i tifosi allo stadio seppur in numero limitato ma i problemi alla struttura potrebbero costringere la società a disputare comunque le gare a porte chiuse. Sarebbe un peccato perché questa tifoseria ancora una volta si dimostra di essere quell'uomo in più che in tanti casi fa la differenza. Ora viene il bello, l'ischia continua a sognare e speriamo che si svegli scoprendo che quel sogno è realtà.